Perché acquistare un sistema fotografico Fujifilm e perché non acquistarlo? Ben arrivato in questa nuova riflessione fotografica, riflessione intitolata Banzai Fujifilm. Ho già fatto una puntata relativa al micro 4 terzi, oggi appunto parliamo di Fujifilm. A proposito della puntata dedicata al micro 4 terzi, mi scuso per i problemi legati alla messa a fuoco, purtroppo ho fatto il montaggio tramite smartphone, ero in viaggio e non mi sono reso conto appunto di quanto fosse evidente il problema. Non avevo tempo per poterlo girare di nuovo perché ero preso da impegni di lavoro, pazienza, quindi mi scuso per i problemi. Detto questo ragazzi entriamo in argomento e parliamo appunto di Fujifilm, uno dei sistemi mirrorless storici, perché dopo Panasonic, Olympus, Sony è venuto diciamo anche lui un pochino più avanti, intorno al 2012, ma insomma Fujifilm è stato uno dei pilastri dell'ascesa dei sistemi mirrorless nel mondo fotografico. Allora perché acquistare un corredo fotografico Fujifilm e perché no? Magari questa riflessione fotografica può essere una conferma per coloro che hanno scelto o non scelto il sistema fotografico Fujifilm, oppure può essere interessante per coloro che sono interessati, magari sono in dubbio se acquistare Fuji piuttosto che un altro brand. Allora cominciamo dal primo motivo, semplice ma essenziale, perché è Fujifilm. Cioè il marchio Fujifilm è un marchio importante, è un marchio storico, è un marchio che dà garanzia, è un marchio che ha un know-how, una storia nel mondo della fotografia importante, è un marchio che tra l'altro è anche simpatico, mediamente quando senti parlare le persone di Fujifilm apprezzano Fujifilm. Non è la stessa cosa per tutti i marchi, ci sono marchi che sono un pochino più antipatici alla massa delle persone, invece Fuji devo dire che è apprezzato praticamente da tutti quanti, a prescindere che poi utilizzano o non utilizzino un sistema fotografico Fujifilm. Fujifilm ha anche dimostrato negli anni di essere un marchio che ascolta molto le persone, i propri clienti. L'abbiamo visto soprattutto con la politica Kaizen, cioè il continuo e costante miglioramento resa concreta all'atto pratico, soprattutto attraverso i firmware, recentemente è stato aggiornato appunto il firmware per le ultimissime fotocamere, l'H2 per fare un esempio, è stata aggiornata all'app gratuita, quindi è un marchio che tende a migliorare e le migliorie nascono appunto dall'ascolto dei propri clienti, dei propri utilizzatori. Un esempio banale è anche la ghiera che oggi è possibile starare gli ISO direttamente dalla ghiera con la fotocamera, la Fuji H2, H2S, devo dire che era un po' una stupidaggine sul piano ergonomico operativo, però questa è una dimostrazione di come Fuji, ok, preso atto di un eventuale scivolone, cercano di porre rimedio laddove possibile. Quindi secondo me il primo motivo è semplicemente perché è Fujifilm, non ci dimentichiamo che per chi è professionista Fujifilm ha anche un sistema dedicato di assistenza, ovviamente dedicato ai professionisti, con addirittura la possibilità di avere un corpo come muletto nel caso in cui il vostro corpo dovesse essere rotto, quindi questa è una cosa chiaramente importante. Quindi un marchio storico, un marchio che ascolta, un marchio di cui ci si fida e si apprezza, insomma, la sua, come dire, la sua filosofia. L'altro motivo fondamentale, ragazzi, è la qualità d'immagine. Io ricordo benissimo quando uscì Fujifilm, oltre per il look un po' particolare delle fotocamere, adesso l'X100 in particolare l'ho avuta, ci ho fatto il viaggio di nozze con l'X100 alla prima, quindi non era neanche ancora col sensore X-Trans, ma ricordo che tutti quanti apprezzarono tantissimo la qualità d'immagine. Cioè, in pratica, se tu stai cercando qualcosa di alternativo al full frame, ma non vuoi rimpiangere la qualità fotografica del full frame, tutti quanti alla fine picchiano su Fujifilm. Perché è vero che il Mico 4 III ha una qualità d'immagine ormai, ragazzi, molto molto vicina al full frame. Abbiamo fatto vedere in un video in cui abbiamo comparato Mico 4 III a PSC full frame, super full frame, su stampe di grandissimo formato, cioè 1 a 0, le differenze che si possono avere, quindi vattolo a vedere. Tra l'altro colgo l'occasione per invitarti ad iscriverti al canale, spuntare la campanellina, vai nelle playlist e troverai migliaia di video, insomma, tantissimi contenuti. Se poi, tra l'altro, ti interessa anche la crescita personale, in descrizione al video lascio sempre i link alle pagine di presentazione, con i video di presentazione dei nostri corsi di fotografia online, dove puoi scoprire tutto ciò che puoi imparare, dal corso dello scatto alla stampa fine art, il corso dedicato al bianco e nero, sia in fase di scatto che di post-produzione, e il corso dedicato alla composizione, veramente completissimo, e il corso super completo dedicato all'uso del flash, quindi per poter gestire al meglio anche il flash in ogni situazione. Insomma, dico sempre, il miglior investimento è su se stessi. Torniamo a parlare di Fujifilm, ragazzi, quindi qualità di immagine. Per me è il principale plus di Fujifilm, a prescindere poi dalla tipologia di corpi macchina, adesso ci arrivo, ma la qualità di immagine andiamo ad analizzarla. A livello di ISO, ragazzi, ormai ISO non è più un problema, cioè se compri un APS-C con le riduzioni rumori avanzate che vengono applicate dai software moderni, praticamente il problema alle alte sensibilità non esiste. Cioè, di fatto, quello che ottieni con full frame lo ottieni con l'APS-C, al massimo devi fare una piccola, diciamo, correzione software, ma sei assolutamente allo stesso livello. Addirittura puoi fare meglio del full frame grazie al super full frame della GFX, per cui, sinceramente, in casa Fujifilm, trovi di tutto in termini di qualità di immagine, uguale o superora addirittura al full frame. Stessa cosa per la gamma dinamica. Puoi recuperare tranquillamente 3-4 stop senza fare una piega nelle ombre, puoi recuperare veramente tanto anche nelle alte luci praticamente sovrapponibile al full frame. Questa è la verità. Poi ci può essere full frame che va un pochino meglio, full frame va un pochino peggio, ma sei praticamente lì. La differenza tra un full frame e un APS-C è che ci sono adesso diversi full frame che offrono qualità di immagine veramente elevate con una risoluzione, una definizione del sensore molto elevata. L'H2 e l'XT5 hanno 40 milioni di pixel, però soffrono un pochino a livello di alti ISO, quindi da questo punto di vista il full frame è ancora un piccolo che è, però ragazzi, sinceramente, definizione e ISO, ormai con le possibilità soft che ci sono, francamente io non vedo proprio nessun problema. Per quanto riguarda poi il super full frame, siamo sopra il full frame, quindi abbiamo 100 milioni di pixel, 50 milioni di pixel, la qualità di immagine in gamma ISO veramente straordinaria e ripeto, tutti coloro che vogliono così, non gli interessa il full frame, non sono fanatici del full frame, ma che vogliono qualcosa di più, che picchino sul super full frame, oppure vogliono stare un pochino più leggeri, magari risparmiare qualcosa senza rimpiangere la qualità di immagine, Fujifilm è il sistema, secondo me, ideale. E l'altro motivo è appunto il sistema. Fujifilm è stato il primo brand, onestamente, a capire che l'APS-C aveva ancora uno spazio importante, poteva avere uno spazio importante a livello commerciale, perché prima di Fujifilm, ragazzi, vi ricorderete che c'era Canon e Nikon e avevano sistemi APS-C, c'era anche Sony, ma tutti e tre i brand non avevano un vero parco ottiche, un sistema dedicato, progettato dall'A alla Z per l'APS-C. C'erano ottiche alcune, sì, progettate per l'APS-C, ma per lo più erano di fatto, pensate, le ottiche per il full frame, e tu le adattavi ai corpi APS-C. Ma ricordatevi che lo schema ottico, a conto essere progettato per il full frame, a conto essere progettato per un formato minore, come l'APS-C, e questa è una cosa importante, ne abbiamo parlato in altri video su dedicato appunto agli obiettivi, quindi non ci torno sopra. Per cui, in grande intuizione da parte di Fujifilm, ha creato tutta una pletora, insomma, di ottiche, tra l'altro, di qualità, partendo subito, intelligentemente, dalle ottiche 1.4, cosa che stupidamente non fece, ad esempio, Amico 4 terzi, anche all'epoca del 4 terzi, cioè non partirono d'ottiche subito luminose, subito diciamo pro, e furono molto intelligenti a coinvolgere, vi ricorderete, tantissimi professionisti, a far, come dire, testimoniare gli stessi, dicendo guardate che con Fujifilm puoi tenere una qualità d'immagine di altissimo livello grazie a questo sistema. Quindi il sistema fotografico e sia per la PSC che per anche il medio formato. Guardate che in Fujifilm si è praticamente pappata tutto il medio formato, rimangono delle piccole nicchie per, come dire, tipologie di fotografie super tecniche, dove ancora magari la resa colore, la fedeltà colore dell'Assemble, eccetera, premia, ma tutto il resto è praticamente Fujifilm e l'ha fatto in pochissimo tempo. Certo, voi direte, ma magari esce Sony, esce Canon, esce Nikon col super full frame e Fuji la rimettono in riga. Allora, intanto oggi è leader, quindi gli va dato atto. Per quanto riguarda ancora i motivi per i quali scegliere Fujifilm e che hanno decretato il successo di Fujifilm è il sistema autofocus. All'inizio il sistema autofocus era primordiale, insomma faceva abbastanza schifo, diciamo la verità, però in poco tempo, perché già dall'H2 e poi con l'H1 il sistema autofocus era veramente valido e sono stati anche intelligenti nel capire che dovevano subito passare dal sistema non solo a contrasto ma anche a fase sempre mosse molto consapevoli da parte di Fujifilm. Altri brand invece sono stati veramente decoccio, come si dice a Roma, testarli, supportare avanti delle tecnologie che a livello commerciale non premiavano, oltre che sul piano tecnico. Quindi Fuji ha adottato un sistema autofocus a fase e è diventato già adatto in poco tempo per lo street, per il ritratto, insomma, per tanti generi senza per il matrimonio, senza grandi rinunce. Oggi grazie ai sensori staked, grazie all'H2S esiste anche delle formule di fotocamere correlativi ad autofocus adatti anche alla fotografia sportiva dinamica, insomma, volendo anche la vifauna. L'altro e l'ultimo motivo tra i principali e poi ci possono essere tanti per i quali molte persone hanno apprezzato Fujifilm, anzi, ne aggiungo due ancora, è la tipologia di fotocamere. Fujifilm è stata la prima a introdurre il concetto, beh, la prima no, diciamo, ha seguito un po' la scia dell'Olympus con l'M5, no? Che aveva un look un po' retro, ricordava un po' le vecchie OM per intenderci. Fujifilm ha capito che questo era un potenziale importante, una leva di marketing notevole. Lo fece con l'X100, poi con l'Xpro e poi con la serie XT. Tutte fotocamere che portavano alla memoria e anche come utilizzo pratico un modo di interfacciarsi con l'attrezzatura molto funzionale, devo dire la verità, molto ergonomico con le tre ghiere e questo è stato veramente alla grande, è stato un fattore e lo è ancora oggi perché io devo dirvi la verità quando utilizzo soprattutto la serie XT con le tre ghiere è di una comodità bestiale perché tu abbassi lo sguardo anche senza avere il display sopra la calotta tu vedi la tria desposimetrica tempi ISO e diaframmi con un colpo d'occhio e tra l'altro puoi regolarli anche da spenta quindi è molto molto comoda oltre che piace sul piano estetico insomma per chi ovviamente proviene dalla pellicola ha lavorato con molte fotocamere e pellicola come ho fatto io che onestamente è una cosa che insomma ti fa piacere cioè almeno a me dà soddisfazione poi troviamo anche fotocamere particolari come la serie X Pro quindi con mirino addirittura ibrido ottico ed elettronico e oltretutto con un mirino decentrato per chi ama il mondo laica tenete conto che all'inizio quando venne presentata l'X Pro intelligentemente Fuji presentò anche un anello per le ottiche laica M che riconosceva quindi le rendeva praticamente come una laica M molti utilizzarono l'X Pro poi venne diciamo un po' bypassata da Sony con la 7 perché ovviamente utilizzavano le ottiche a pieno formato quindi risfruttavano tutto l'angolo di campo delle ottiche che avevano M però effettivamente ricorda molto lo stile di lavoro di utilizzo di approccio di una laica M non è la stessa cosa ci ho fatto anche una riflessione fotografica però lo ricorda molto e questo è un altro aspetto sicuramente degno di nota così come abbiamo poi ultimamente le fotocamere più vicine al concetto di reflex quindi con le tre ghiere la ghiere davanti la ghiere posteriore la ghiere insomma sul pollice quindi in sostanza semi reflex ok molti hanno criticato questa scelta hanno detto ah Fuji sta abbandonando la sua identità in parte un pochino l'ha abbandonata quantomeno ha allargato molto gli orizzonti prima era un pochino più rigorosa verso una visione della fotografia adesso ha abbracciato anche una modalità di utilizzo dell'attrezzatura che è appunto un pochino più moderna e più adatta ai videomaker proprio quest'ultimo è appunto uno degli altri punti di successo del Fujifilm per i quali vale la pena investire anche in Fujifilm perché se ti interessa anche il video anche a livelli importanti cioè insomma fai insomma videomaking serio sicuramente in Fuji trovi dei prodotti interessanti soprattutto gli ultimi usciti l'H2S è veramente un prodotto molto valido ma se vuoi spendere un pochino meno trovi anche l'XS20 che è appena uscita è secondo me un prodotto davvero dignitoso molto interessante anche in ambito video quindi vedete motivi molto concreti che hanno deputato giustamente il successo di Fujifilm Fuji è riuscita a conquistare le vette di mercato? no non c'è riuscita forse ci ha sperato per un periodo poi si è ressa conto che combattere contro Sony e Canon in particolare modo non era oggettivamente fattibile per l'impegno e le risorse che magari avevano a disposizione e quali sono stati i fattori che secondo me e non solo da un po' di ricerca che ho fatto hanno decretato non il successo totale di Fujifilm partiamo da un primo fattore che può sembrare un'antitesi a quello che ho detto poco fa ma in realtà cerco di spiegarmi e cioè il fatto che non c'è un sistema full frame cioè io per quanto condivida la scelta di Fujifilm sul piano tecnico l'ho detto più volte di fare un APS-C un super full frame sul piano commerciale ragazzi non c'è storia se Fujifilm fosse uscita con un sistema full frame cioè ad esempio la serie XT o la serie X Pro fosse full frame fossero state full frame entrambe avrebbe spopolato punto non c'è storia cioè Fuji oggi sarebbe il secondo marchio di costo secondo perché probabilmente Sony è troppo potente anche per Fuji ma sarebbe stato insomma sicuramente sul podio con una quota di mercato importante intanto avrebbe messo in serie crisi Laika perché tu sostanzialmente con le ottiche M piccoline l'attacchi sui corpi XT o X Pro sfrutti tutto l'angolo di campo con le tre ghiere cioè è una goduria totale ma poi ragazzi il full frame sul piano commerciale ha un appeal molto importante magari poteva fare una linea una linea APS-C una linea full frame se proprio insomma credeva nelle APS-C ma la mancanza del full frame ha fatto sì che molte persone che sono fissate con il pieno formato insomma gli abbiano dato un pochino di tacco tenete poi conto che se fosse stata full frame con tutti gli anelli adattatori uno poteva utilizzare tutte le ottiche analogiche che ci sono sul mercato sfruttando tutto l'angolo di campo e sarebbe stata veramente una cosa fantastica avendo anche le tre ghiere insomma un'occasione commerciale a mio giudizio persa secondo me l'altro motivo che ha penalizzato per un bel po' di tempo Fujifilm è stato il sistema autofocus come ho detto è vero che in poco tempo Fuji ha capito subito che doveva utilizzare i sistemi autofocus a fase oltre che a contrasto già con l'XT2 ha creato dei sistemi autofocus piuttosto competitivi però ragazzi il sistema autofocus fino ad oggi anche con l'H2S che è un ottimo sistema autofocus ci abbiamo fatto la recensione fra poco uscirà tra l'altro anche un video di confronto con l'OM1 a tutto tondo compreso l'autofocus è un ottimo prodotto ma con tutta franchezza ragazzi non raggiunge in tutti gli ambiti le performance di Sony e di Canon che rimangono i leader del mercato ora se uno ha un'esigenza abbastanza basica come potrebbe essere lo street gli va bene l'autofocus può andare bene nel matrimonio ma nella V-Fauna nella fotografia sportiva se sei un professionista ovviamente devi portare a casa il risultato e lo puoi fare ma comunque è meno il sistema autofocus è meno performante di Canon e di Sony e questo sicuramente è un elemento di penalizzazione l'altro elemento che sta penalizzando oggi ma anche in parte ieri ma insomma oggi sicuramente è la carenza di alcuni obiettivi prima di tutto alcuni obiettivi e ancora oggi ci sono non sono tutti aggiornati con i sistemi autofocus moderni delle ultime fotocamere focifilm questo ti costringe sostanzialmente a dover riaffrontare la spesa di fare l'upgrade degli obiettivi o comunque in alcuni casi mancano proprio mancano poi degli obiettivi secondo me importanti su nicchie di potenziali utilizzatori che fanno la differenza cioè vi ricordate nella riflessione fotografica se le avete viste riguardo al micro 4 terzi io ho detto che uno dei grandi vantaggi del micro 4 terzi è proprio la presenza degli obiettivi sia di casa Panasonic che di Olympus obiettivi di grande qualità versatili con degli zoom veramente top cioè di qualità veramente top purtroppo in casa Fuji non è così i zoom tolto il 50 140 non sono granché questa è la verità cioè abbiamo il 1655 che va assolutamente aggiornato il 1680 che per la tipologia di obiettivo potrebbe andare bene ma di certo non soddisfa l'utente più esigente mancano degli zoom un po' tutto fare per tipo il 12100 su Ico in casa Fuji manca una tipologia di obiettivo del genere con la stessa qualità perché è chiaro c'è il 18135 ma ragazzi cioè il 12100 gli dà la paga alla grande quindi non è francamente neanche confrontabile quindi mancano purtroppo degli obiettivi importanti per una tipologia di utenza che nella PSC può trovare l'equilibrio perfetto ma anche nel mondo degli zoom dei tele scusate manca anche lì tanta roba mancano degli obiettivi specifici per lo sport ma soprattutto per la bifauna cioè tu fai una fotocamera l'H2S che si apre anche questo tipo di fotografia e ancora insomma neanche nella roadmap non sembra esserci insomma un focus così veloce e così attento per certi obiettivi che cominciano ad essere insomma delle carenze piuttosto gravi quindi onestamente oggi come oggi vi dico la verità scegliendo APS-C nel paesaggio Fuji non credo che sia il sistema migliore non per la qualità del file che è altissima ma proprio per la mancanza di ottiche nel GFX invece le ottiche sono eccellenti quindi nel paesaggio andate alla stragrande però ovviamente ragazzi parliamo di prezzi e di costi insomma di prezzi importanti e anche lì mancano però tutta una serie ancora di obiettivi che ovviamente ti fanno un po' pensare poi sono un pochino meno luminosi quindi per qualcuno può essere un problema quindi il discorso ci sono ancora dei vuoti a livello di sistema in casa Fujifilm che oggettivamente come dire demotivano il potenziale l'acquirente se questo poi ci mettiamo che Fuji ha tenuto chiusa la baionetta per insomma l'attacco per tanto tempo e solo dopo Viltrox eccetera hanno cominciato a produrre obiettivi per Fujifilm anche questo insomma è stata una penalizzazione importante questa è stata forse una delle poche scelte sbagliate da parte di Fujifilm perché se avesse subito creato una collaborazione una spinta con Tamron con Sigma insomma con altri marchi secondo me era una mossa molto intelligente però non l'ha fatto avrà avuto insomma le sue le sue ragioni l'ultima ragione che frena alcuni utenti e intanto anzi l'ultima ragione due ragioni bis una bis via una prima ragione più importante secondo me è il discorso dei prezzi perché con alcuni modelli sicuramente Fujifilm è competitiva rispetto a delle fotocamere full frame non c'è dubbio fotocamere full frame mediamente costano di più con altri modelli di fotocamere il prezzo non è poi così competitivo e soprattutto oggi come oggi a Fuji manca una fotocamera al di sotto dell'800 euro cioè manca proprio la prima fotocamera che ti voglia entrare nel mondo Fujifilm ma che non sia però una scatoletta un po' come ha fatto in passato cioè deve essere una fotocamera che già ti fa capire che hai a che fare con un marchio di qualità a livello fotografico invece insomma gli esperimenti fatti in passato con modelli che volevano attrarre l'utente smartphone a portarlo nel mondo della fotografia sono stati piuttosto dell'utenti tant'è che Fuji mi sembra che abbia anche tolto dal mercato l'ultimo modello quindi manca onestamente un modello tipo l'R10 ecco della fascia dell'R10 dell'R50 per intenderci o addirittura dell'R100 come ha fatto Canon proprio per inserirti portarti all'interno del mondo Fujifilm per poi far fare la classica scalata verso modelli sempre più importanti anche dal puntista dei prezzi quindi non è sempre competitiva l'XS20 per me ad esempio è un modello molto interessante veramente azzeccato per alcune tipologie però effettivamente è un pochino più alto è un pochino il prezzo è percepito un po' più alto di quanto magari altri magari di quanto altre persone insomma pensassero quindi non sempre proprio competitiva dal punto di vista del prezzo l'ultimo motivo ragazzi secondo me con tutta franchezza è il motivo diciamo mezzo motivo perché so che non interessa a tutti ma credo che a molti invece interessi è la mancanza a mio parere di un profilo flat neutro cioè senza profilo pellicola ora i profili pellicola sono una figata non c'è ombra di dubbio però a volte uno ha bisogno di un profilo molto fedele flat quindi senza curve di contrasto importanti morale della favola devo avere un file estremamente lavorabile neutro ci devo mettere le mani io non mi interessa avere un raw che sia una sorta di raw peg cioè una sorta di jpeg più d'utile grazie all'estensione raw questa cosa manca e purtroppo manca in maniera grave anche nelle gfx cioè nei prodotti destinati ad un uso professionale voi direte vabbè ma basta che associ l'adobe o il profoto rgb piuttosto che l'adobe rgp l's rgb insomma i profili standard è vero ragazzi questa cosa ma non è del tutto vero perché onestamente la fedeltà cromatica un po' si perde quindi secondo me soprattutto sulla gfx fuji avrebbe dovuto puntare di più su almeno un profilo veramente attento alla fedeltà cromatica proprio per far concorrenza anche ad Assemblad che la fedeltà cromatica l'attenzione alle cromie è sempre stato uno dei cavalli di battaglia per cui secondo me questa è una cosa su cui fuji dovrebbe onestamente pensarci perché renderebbe poi la fotocamera perfetta ancora più perfetto il sistema sarebbe se finalmente fuji facesse ste benedette fuji monochrome e lì a quel punto spopolerebbe ma non si sa perché non le vogliono fare ragazzi vi ho detto le mie opinioni voglio sapere cosa ne pensate voi se hai fuji perché l'hai comprata se l'hai venduta perché l'hai venduta se non l'hai comprata perché non l'hai comprata piuttosto un altro marchio insomma sono curioso di sapere le tue opinioni i tuoi commenti perché sono informazioni preziosi non solo per fuji film che comunque ascolta anche i nostri video ma soprattutto per coloro che sono interessati a eventualmente acquistare un corredo fuji film quindi la tua testimonianza può essere utile mettete un like al video se vi è piaciuta la riflessione iscrivetevi al canale mi raccomando ci aiutate tantissimo nel nostro lavoro è un modo per dire grazie all'impegno che ci mettiamo se ovviamente l'apprezzate e se volete migliorare le vostre fotografie in descrizione trovate i link ai nostri corsi fotografie online ma che li puoi scaricare anche sul tuo computer ci vediamo alla prossima riflessione ciao ragazzi